Buongiorno, sono dentro. Nel piano sopra dei troppo scarpe, come potete vedere, nulla di speciale, è tutto degliadato. Questi hanno dei vecchi strutturi. Guardate che bello. Questo è sotto. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Davvero? No, a parte su... Uh! C'è? Guardate qua. I macchinari. Fuori piove. Ho noto una vecchia valvola. Davvero? Davvero? Perché prima ce ne... nel 2018 ce ne erano? Ah, non lo so ne sa più di cucinino. Anche perché c'è... c'è? Sì. 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 Sì, davvero. E' brutto il legno. E' brutto il legno. Via, via. Guarda! Un clarinetto! Guarda il clarinetto! E ora, siccome è il legno, bisogna ricongiungere la madre natura. Esatto! Guardate che bello! Esatto! Guardate che bello! Esatto! Cosa vuoi di più? Grazie! Questa è la torre di guardia, vetro temperato laminato Ed è qua, con il coso, con i cosi per pulire dalla pioggia, come sulle navi Questo è il cracker che avevo fatto nel 2018 Di qua erano vedi altri proiettili Ma quello più mal ridotto è questo qui Qua non si sa neanche più che fine abbia fatto Tempo vale Guardate i vetri come si bagnano Qua il militare andava sopra e sparava intrusi Qua non ho idea di che cosa serve questa viva Qua purtroppo si è formata l'umidità nel vetro Non si vede più niente Che bella la nostra macchina Cavolo, guarda che me Il conifero, che grosso, deve essere la parte di ricezione della parabola Oh la la E questo era il cavo Spinner 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 Buongiorno a tutti i nostri spettatori